Musica Ci troviamo ad Aquileia, questa splendida perla del Friuli Venezia Giulia, la prima città unesco, uno dei siti archeologici più importanti del nord-est, del nord Italia e del centro Europa. Oggi ospitiamo il Giro E, questo interessante nuovo evento legato al mondo della bicicletta che avvicina sia il pubblico ma anche gli amatori a quelle che sono le idee di sostenibilità. Noi come amministrazione abbiamo subito sposato questo evento perché siamo vicini, proprio anche nelle linee di governo, a quelle che sono le attenzioni verso l'ambiente, verso quelle che sono le energie rinnovabili. Stiamo cercando di impostare tutta una serie di attività legate a questo e quindi abbiamo risposto in maniera abbastanza pronta a quelle che erano le sollecitazioni di RCS e anche di Enel X che è comunque un partner anche in altri progetti per il comune di Aquileia. In più, diciamo che essendo uno dei comuni turistici più importanti della regione, il fatto di essere all'interno di un evento supportato da Enel Italia per noi è una cosa molto importante. Abbiamo visto una grande organizzazione, veramente i team sono dei team molto interessanti. Fra l'altro questa cosa interessante di poter vedere in piazza esposto il premio del centenario, esposto sotto la lupa capitolina che fra l'altro noi quest'anno ricordiamo un centenario molto importante che è il centenario della partenza da Aquileia verso Roma del Milite Gnoto. Quindi si sposano i centenari, si sposa il turismo, si sposano i turisti, si sposano i visitatori ed è un ottimo messaggio per la ripartenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.